allora oggi siamo andati se vuoi dico già subito la strategia su eni vista la debolezza dell'altra volta abbiamo pensato pensato che potesse reggere il livello di resistenza dei 14 euro e 97 quindi io ho piazzato un ordine short con target 14 60 14 61 mentre viceversa lo stop è a 15 08 i livelli restano sempre più o meno invariati se ricordate anche l'altra volta abbiamo detto che sopra i 15 03 15 04 il titolo poteva allungare verso i 15 e 35 40 come poi ha fatto adesso è tornato sotto questo livello visto la vendita di quella percentuale da parte dello stato 28 per cento quindi di conseguenza il titolo ha pesantito la sua posizione per cui da qui ai prossimi giorni non credo che ci siano tanti spazi per risalire ed ecco perché l'operazione short con un stop però sopra il livello di resistenza proprio perché se poi invece il mercato dovesse pensarla diversamente il titolo va dalla parte opposta e quindi è bene stopparsi questa è l'operazione di oggi su a 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